20 anni fa, mia sorella e altri tre studenti furono uccisi. Quattro ragazzi uccisi e non l'hanno mai preso. Non ho mai conosciuto mia sorella. Dicono che non puoi cambiare il passato, ma se potessi... Che succede? Che giorno è? Il 16 aprile. Di che anno? Tesoro del 2003. Vieni dal futuro, ma è assurdo. Guarda, è il mio telefono. Chiami la gente con questo. In realtà non ci chiamo la gente. Costerà un milione di dollari. Ora ho la possibilità di impedire gli omicidi. Tu hai un'aria molto familiare. Da stasera inizia una cosa tremenda. Come fai a saperlo? Tu non lo puoi impedire. Rischia un effetto domino con conseguenze devastante. Noi non alteriamo il futuro, gli diamo solo una... Ritoccatina. Una ritoccatina. Sì, come nel film Kiss Me. Non mi sembra che finisse con la distruzione del continuum spazio-temporale. Nel futuro, lo prenderanno. Summer, sei la prossima. Summer, sei la prossima.